Alle 8.30 di questa mattina è iniziato il restauro per l'elefantino di piazza della Minerva. Si tratta più che altro di prove tecniche per decidere come ripristinare il pezzo sfregiato. La scultura secentesca era stata danneggiata nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 novembre. La magistratura ha aperto per l'occasione un fascicolo a carico di ignoti per danneggiamento di bene artistico. Si cercano indizi utili a ritracciare i vandali grazie anche all'aiuto di telecamere puntate su piazza della Minerva. Intanto l'intervento di oggi ha richiamato una gran folla di curiosi. Si tratta di un frammento di marmo di Carrara già oggetto di un intervento di restauro risalente al 1977. Grazie.